Pomeriggio di riposo per l'Avellino che questa mattina invece ha svolto un allenamento molto lungo ed incentrato prevalentemente sulla tattica che poi si è concluso ovviamente con una classica partitella in famiglia a campo ristretto. I calciatori bianco-verdi guidati da Giovanni Bucaro e Daniele Cinelli il quale per forza di cose dovrà ricoprire il ruolo di primo allenatore vista la squalifica di due giornate combinata al trainer palermitano stanno studiando il loro prossimo avversario ed insieme al resto dello staff tecnico stanno cercando di adottare diverse soluzioni tattiche per far convivere il rientrante Sforzini con Luis Alfagheme. I due calciatori hanno già giocato insieme e per ben 36 volte quando entrambi militavano nel grosseto e durante quel periodo i due calciatori hanno addirittura prodotto complessivamente 30 reti e 4 assist. Alfagheme riuscì a fornire addirittura un'assistenza al taglia gole poiché spesso venivano impiegati contemporaneamente nel 4-4-2 che Guido Ugo Lotti ha spesso schierato nella stagione targata 2011-2012. Una buona soluzione tattica che di certo il trainer palermitano starà valutando soprattutto se in fase di possesso il modulo dovesse diventare un 4-2-4 con pepe o ciotola ed ad alta esterni alti. Veniamo ora alla situazione infortunati tutto è rimasto invariato rispetto a 24 ore fa. I tre centrali di difesa Morero, Capitanio e Dondoni stanno attraverso cure terapiche smaltendo i rispettivi acciacchi con il capitano che sta cercando di recuperare nel più breve tempo possibile dall'elongazione del polpaccio. Alfagheme e Pepe non sono di certo al top ed entrambi saranno valutati giorno per giorno dallo staff medico Irpino. Nel frattempo Matute e Devena sono ritornati tranquillamente in gruppo e si allenano con intensità. Come sappiamo Tribuzzi non sarà della contesa a causa della squalifica e sembra comunque troppo presto per ipotizzare un 11 titolare ma i crismi per poter proporre un 4-4-2 con la cupia d'attacco formata da Alfagheme e Sforzini sembrano esserci tutti. L'Avellino ha bisogno di tornare alla vittoria ed osare provando qualche soluzione tattica differente dal 4-3-3 sembra essere una delle poche possibili strade percorribili dai lupi.